Nuova ondata di maltempo anche a Padova e provincia con piogge fortissime miste a grandine nel primo pomeriggio di ieri e poi in tarda serata e un vento a raffiche che ha causato la caduta di centinaia di piante. Una trentina gli interventi richiesti ai vigili del fuoco tra il centro della città e l'alta Padovana, Cittadella e Carmignano soprattutto. In città la pioggia della sera ha allagato molte strade da via Facciolati al Portello che vediamo in queste immagini, alla guizza e a via Bembo dove sono caduti molti rami e anche qualche albero meno resistente. Questa mattina rimanevano ad effettuare ancora una decina di interventi soprattutto per ripulire le strade dagli alberi caduti e per gli allagamenti. A Campo San Piero ha allagato il sottopassaggio di via Marconi e poi i danni all'agricoltura e i raccolti soprattutto il mais ma anche gli ortaggi, i vigneti e la soia. Si parla di 15 milioni di euro di danni alle coltivazioni in provincia di Padova. Grazie. Grazie.